benissimo scusa il ritardo ma non è il ritardo non sei lasciato direttamente al bar ho capito allora ho detto guarda c'ho un appuntamento con colorista vincente guarda che bella vetrina ho realizzato per poi presentarti eccoti qua grande colorista italiano da tantissimo tempo che non ci sentiamo giusto è vero aspetta un attimo che mi sposto perché qui non è possibile starci non è possibile starci ci sono dei bambini quindi non voglio che ci disturbi va bene va bene ok allora mi metto in una posizione un po più fare ti posso conoscere anche lui è francesco ha lavorato con me a tenerife è un gran personaggio questo signore qua lui è luce ciao ciao tutto bene sì come fa caldo da te ci sono 13 gradi oggi è una bella giornata la sera che precipita lo zero grado più a roma ancora ancora stenta la primavera ancora non è arrivata bene senti io ti ho chiamato anche per l'occasione che sto ripartendo con queste interviste moda tendenza creatività e da chi posso ripartire da duilio torres con colorista vincente perché hai pubblicato anche questo meraviglioso libro che ci hai lavorato parecchi anni o no ah beh sì eh beh guarda eh l'ho finito di scrivere a quando c'è stato lockdown perché se no non ci sarei mai riuscito cioè non ce l'avrei mai fatta ero a casa non ti potevi muovere allora via si vede si vede che era destino purtroppo eh sei riuscito a trasformare un qualcosa di negativo in positivo negativo di noi stessi la nostra famosa zona comfort che delle volte ci si grociola ma senza mai fare un'azione ben precisa anch'io ho questi problemi con le dirette perché anch'io ho iniziato a fare le dirette eh sotto il lockdown eh e poi ci siamo un po' riammorbiditi ma siccome adesso le cose sono ancora ulteriormente cambiate eh e attaccare e attaccare eh in questo modo diverso perché io eh trasmetto qui da Tor Vergata e qui accanto a me c'è il negozio dove facciamo belle le persone quindi eh mi piace raccontarlo eh dal parrucchiere che eh la mattina lavoro come parrucchiere ma eh durante la giornata è interessante confrontarsi con personaggi come te perché no ti ringrazio della stima noi abbiamo lavorato anche insieme a Tenerife quindi ci conosciamo sappiamo io conosco le tue grandi qualità certo certo e quindi adesso questo libro è in vendita adesso è in vendita sulla mia pagina Luigi Torre eh c'è il link oddio c'è anche una sponsorizzata eh giusto per essere presenti e per vedere un attimo nel mercato cosa c'è però nella mia pagina c'è nel mio sito la possibilità di di comprarlo che si chiama Tricosmetology sì e parla un po' della tricologia e parla un po' di quella vera non di quella fuffiana sì di quella vera è quella che ha origine da ricerche profondamente scientifiche io insomma sono 40 anni che mi dedico allo studio della chimica quindi un po' un po' nemastico e poi si parla delle anomalie delle della cute quindi un po' tutto eh psoriasi che si parla di dermatite ma anche forfora e come curarla perché anche se noi non possiamo usare questo questo termine perché di eh di appartenenza medica io dico che usando le cose giuste si riesce a ridurre ma di tanto quel tipo di anomalia tantissimo eh usando dei prodotti naturali e poi eh e poi si parla della caduta dei capelli cosa cosa che la provoca cosa che la produce nelle varie situazioni e come si può trattare prendendo degli integratori addirittura e poi parlo di rispetto dello shampoo che è questo sconosciuto perché i prodotti vendono lo shampoo però se un prodottiere mi chiede all'azienda come mai si forma la schiuma e quello non te lo sanno dire certo guarda io ti faccio vedere una chicca questo è un libro di acconciature moderne del 1980 dove si spiegavano eh le cose con i disegni vediamo un po' eccole qua vediamo se riesci sì dall'epoca adesso anche perché delle volte per vedere quello che noi siamo dobbiamo vedere quelli che siamo stati e come le abbiamo spiegate le cose perché tu nel libro le spieghi ulteriormente diversamente da quello che siamo nel 2022 quindi ho dovuto fare tante ricerche perché avevo delle nozioni che ero fermo a tre anni fa rispetto a quello che stavo facendo adesso quello il mio il mio seminar sul colorista vincente come come poter agire sulle melanine che tutte e quante ti dicono che sono ancora blu rosse gialle che non è vero niente quindi approfondisco quel termine qui invece in questo libro si parla di di cose un po più diverse da quelle della colorazione anche se c'è qualcosa che ne parla come la spiegazione delle melanine queste cose però è un libro di conoscenza guarda che addirittura è un libro che ho scritto in maniera talmente attenta perché è una quattro come 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 grandezza molto grande e e niente è scritto in maniera molto semplice capibile da anche da chi non è un parrucchiere di figurati te quindi è un parrucchiere meglio che lo compri perché se no se arriva un cliente che ne sa più di lui ma questa questa la me la ricordo questa storia che delle volte le clienti sono molto più informate del parrucchiere quindi assolutamente sì grandi difficoltà cercheremo di cambiare allora eh tu eventi online ancora le li li stai rifacendo o come corsi formazione di colorometria applicata allora colorista vincente e il seminar che faccio io da circa tre anni nei tre anni si è evoluto parecchio quindi sono due giorni di di seminar in webinar che è molto più comodo per la gente perché eh in pratica spiego tutto quello che è il capello spiego tutto quello che è il e i sono i trattamenti coloranti cosa fanno come si comportano dove agiscono perché e poi do anche delle perdonami eh che ci sono dei bambini qua fantastico stiamo proprio no la cosa bellissima che fortunatamente abbiamo delle connessioni che funzionano oggi sì 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 davvero e questo è un corso che è aperto ai parrucchieri ovviamente devi essere un parrucchiere però è bello perché impari a colorare e non si devono mettere le mani in pasta perché poi le in realtà lo fanno tutti gli allievi il martedì quando tornano in salone e provano le miscelazioni consigliate e adesso fino adesso insomma sono quasi diciamo duemila allievi in tre anni e non ce n'è stato uno che si è lamentato quindi comincia ad esserci un buon numero di di discepoli se vuoi per poi dentro questo contenitore ci sarà anche qualche genio che uscirà fuori in base a alla motivazione che tu in modo o nell'altro gli avrai trasmesso sia in vivo che hanno fatto grandi lavori ce ne sono certo certo no 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 ma ti seguo ti seguo sempre sulla tua pagina quindi adesso metterò in descrizione questo questo video con il tuo eh portale dove parrucchieri o non per il libro eh poi devo sfruttare eh quella persona che vuole documentarsi eh più professionalmente anche non essendo parrucchiera ma con corsi professionali per parrucchieri che è compreso anche il libro credo non lo so adesso poi le informazioni le troveranno sul tuo portale ma assolutamente sì guarda io ho fatto questo con una passione incredibile e adesso mi sono ritrovato che tra un po' di tempo che tra un po' di tempo adesso non so bene 15 giorni credo uscirà addirittura un colore che è stato formulato da me e da annunzio che hai conosciuto prima quindi stiamo andando avanti stiamo cercando di fare delle cose sempre più utili per la nostra categoria perché ce n'è bisogno e quindi stiamo lavorando veramente solo sarà un colore bellissimo quindi non ha non ha non ha tanti componenti cattivi ma ne ha tanti di buoni mi farà molto piacere invitare anche lui nella prossima volta così certo spiegate meglio il colore d'accordo assolutamente poi io conto di venire da te a roma quanto posso quanto prima possibile perché davvero ma possiamo sempre organizzare qualcosa qui a tor vergata al salone è bello posto per quattro cinque parrucchieri la sala lo permette possiamo anche inventare un bel corso a roma di primavera per chi vorrebbe colorarsi i capelli quindi assolutamente lanciamo questa questa lo lanciamo a tor vergata che è molto ben allacciata per chi viene fuori abbiamo assolutamente agriturismo qua per prenotare eccetera tante sono delle cose bellissime che però la tecnologia ci dà l'opportunità di raccontarlo vediamo un attimo se qualche collega eh gli piace l'idea assolutamente ma io penso di sì tanto noi guarda noi nella nostra categoria parrucchieri e parrucchiere siamo sempre molto curiosi che è la cosa che ci dà la forza per capire e per provare anche cose nuove ma certo cose nuove eh guarda io ho una stima incredibile di Duiglio Torres perché adesso sono una decina d'anni che ci conosciamo e e stiamo facendo un percorso eh tutti quanti per il per il suo e tu Duiglio stai andando stai andando hai raggiunto in parte quello che ti eri premesso perché io ve lo ricordo quando parlavamo tanti anni fa di questo famoso libro che adesso sono emozionato anch'io anch'io di leggerlo di leggerlo non è che guarda la stima io ancora non l'ho letto però io spero che l'autore mi scriverà una quando verrai a Roma assolutamente caro assolutamente te lo porto personalmente e comunque la stima è contraccambiata credimi al cento per cento ti ringrazio ma figurati guarda mai visto lavorare nessuno così con le stesse di te quindi adesso adesso sto organizzando iniziato dei corsi adesso l'undici aprile dovremmo iniziare quello basico per i giovani dai 20 ai 30 anni eh perché ci interessa quel segmento che eh il massimo eh di un essere umano è l'età per esprimere al massimo e come imprinting dargli non attaccare ciocche ma dargli una filosofia di creare volumi non solamente italiano ma anche estendendo con pochissime ciocche non c'è bisogno di farne ottomila di ciocche e qui eh poi piano piano lo racconteremo nelle prossime puntate con altri colleghi coinvolti in questa avventura io vedo da te che c'è un sole ancora meraviglioso le giornate si sono allungati ma sì davvero e quindi ci salutiamo l'ultima dacci una pillola di sapere per finire qualche cosa di interessante che ci puoi raccontare ma guarda se ti facesse piacere magari la prossima volta che che andiamo in onda potrei spiegarti come funziona quel trattamento nuovo che si chiama nuovo che si chiama laminazione bene quello è un è un è un servizio che che è molto bello non è così non lo puoi spiegare in in due minuti però magari la prossima volta te lo spiego ti 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 dico che cosa che cosa si può fare eh tenete conto di una cosa che la eh la scienza va avanti la scienza va avanti non solo nella medicina anzi ti dirò che sta correndo di più nella nella eh come nel settore naturale e quindi eh quando qualcuno avrà magari anche tu sapere qualcosa come agisce perché è tutto un mistero no ti dicono che fa il film intorno ai capelli ma dobbiamo essere seri ok perché non plastifichiamo nulla però si si agisce sul capello in una certa maniera per i parrucchiere è molto importante spiegarlo alla propria cliente questo è fantastico bene 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 perfetto ci sentiamo alla prossima puntata e quando vuoi caro in bocca al lupo poi altrettanto a te tutto quanto a descrizione dove andare a vedere più dettagli grazie grazie caro sarà una sarà una sorpresa per tanti parrucchieri sicuro io mi auguro che veramente prenda uno spunto per poter fare delle cose in più e guadagnare in più perché poi alla fine si studia per quello bellissimo ciao ciao francesco grande sono molto contento di aver parlato con te e saluto a tutti ciao ciao caro allora eh bene eh abbiamo fatto questa ghiacchierata con duilio che ci ha dato un pochino di informazioni sul questo nuovo libro di eh coloristica eh specifica e sotto le note musicali eh concluto questa diretta qui da torvergata da mtc moda tendenza e creativa di ripetà la trasmissione che racconta le le arti delle persone in gamba grazie e buona serata a tutti qui 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 Grazie a tutti.